Rimessa laterale per un Montepaone con l'ennesima sostituzione, questa volta vediamo chi entra, si tratta del numero 16 Doria che al 42esimo del secondo tempo, Doria vediamo chi va a sostituire e anche qui una standing ovation per Gregorio Vatrella, dicevamo l'Intercity di Staletti che viene sostituito dopo aver fatto un gol meraviglioso e aver sbagliato in maniera clamorosa un'altra segnatura e lui, Amsic Gregorio Vatrella che esce con l'ingresso di un altro talentuoso giovane della cantera del Montepaone quel Doria appunto che spesse volte è partito da titolare e riprende ora la partita